filmiamo un po di sui, a filmi proprio, il fatto li fanno tutti, ho visto che i filmini comunque un po' rendono idea, mi dico che scampo, hello, hello, Matteo, yes, Matteo, 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 yes, Matteo, 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 spento la persa, ragazzi, Matteo, 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 poi devo alla stessa, non ci vanno questa la sinistra, non ci vanno la stessa. Ma questa nonconalla parte mica, voglio rimasciare sotto il ragazamento, con i protein, e non ne sono quasi Pinei, e stessicipando perché? è un film. Un film? Non, non, non... Hallo! Ciao! Mi chiamo Matteo. Matteo? Si! Eh, dategli una mano, scusa! Eh! Ciao! 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 Ciao Matteo! Non c'è! Massimo non c'è! Ah, c'è lo stesso qualcosa! Buon Massimo! Sì! Permesso! Avanti, avanti! Sì! Guardi i grossi! Apri tutti i bimbi la tua squadra! Io ho cuore! Permesso! Ma che stai a casa? Siamo delle abituine qua! Guardi! Tu lo hai ragazzo qua! Tu lo sei comunque da un anno! Ma lo può essere! No, io non lo sto scegliere! Guardi! Ma vedi! Ma vedi! Hai ragionato io! Si! Andrea c'è ancora? No! No, no! E fa due anni fa già non si era! Ciao! Ciao! Voi da dove venite? Eh? Ma io sono il quinto esperto! Sì! Sono tanto male a trovarli! Io ero vinto qua da due anni fa! così! Anche voglia« «Un anno! non sono andato via no no sono andato via sentitevi pure ragazzi facendo due chiacchia vediamo se è pronto il tè se lo volete un po' torno domani torno domani mi hanno detto che vediamo il suo padre è un'altra parte è un'altra parte è un'altra parte L'anno scorso è tornato a parlare, era tre anni che non andava a casa, sono venuti a prenderlo, l'hanno messo in valigia e l'hanno imbarcato, era pieno di tic due anni fa, era pieno di tic due anni fa, Massimo, ma ancora adesso. Poi tu rimani qua con lui quando vanno via qua. Sì, rimaniamo in due, più Massimo. e poi vabbè adesso arriverà domani ci saranno qua se ne chiedono ma qui come c'è eh 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 progetti io non so eravamo arrivati alla alla veneta che facevate alla pulizia delle strade adesso c'era la traduzione di per i ragazzi per i ragazzi di strada eh si è praticamente finita ah per i ragazzi e guarda adesso la settimana fa abbiamo fatto un asilo a Maringheta e poi di cosa muove la prigione? non so se no no non abbiamo fatto i ragazzi non c'è la prigione e poi facciamo un altro e poi e poi scricidere nella seconda fase c'era già c'era quella c'era quella costruzione la costruzione di quella casa era l'inizio ah si 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 e lì è stata fatta la seconda fase ma ovviamente perché sono loro c'è Massimo c'è sono i loro come ragazzi qui e invece sotto è stato fatto un asilo per 70 bambini c'è c'è sempre della baraccopola e di intorno e di intorno ed è per dare un po' di lavoro dai per dare un po' di il progetto del microcredito e poi un progetto scuola questo qua è tu non lì hai semplicemente un po' di e dov'è e dov'è e dov'è da mangiare no questo non è un film parlare parlare ora in camera cantare qualcosa 5 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 6 6 6 7 7 8 8 8 8 8 8 9 8 9 9 9 9 10 10 10 11 11 12 12 13 14 15 16 16 17 Sì, stai girando, non a picture, stai girando. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info